e bello di ragazze al nostro nuovissimo video sono il vostro colex e ben andando in questo nuovo gameplay su clash la ragazzi superiamo i 5 like per un nuovo video ragazzi finalmente uscire un nuovo aggiornamento delle 3 nuove carte i scaricuccioli scaricuccioli poi è uscito non so se ce l'ho ah il cacciatore e questa qua che esce tra dopo natale praticamente perché 22 21 21 giorni mi manca solo in minature come leggendaria queste sono tutte le leggendari tranne in minature sono sfortunato poi sono usciti questi due nuovi sì magari questi tre nuovi bauli come praticamente questi questi due questo baule fortunato sarebbe bole magico questo qua si può trovare solo nello shop invece questo qua i bole gangiante e ball del 3 leggendario si possono teneri no qua nelle missioni si può tenere nelle missioni questi qua non le richiedo perché questi qua mi servono rega questi qua sono troppo goldio non ne ho ma rega di per me il cacciatore da lontano non fa danni però da vicino fa bei danni ora ci andremo a fare della una battaglia online spero che vinciamo raga perché il posto dei scaricuccioli stava il bastino lavico iniziamo a mettere una lapide ecco ecco entrano le guardie andiamo con strego notturno andiamo con i scaricuccioli rega che sono fighissimi perché pam 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 ma sono troppo fighissi così mannaggia miseria mettiamo lui e lui andiamo con la scarica il domatore va fuori e questo già abbiamo un'ottima difesa abbiamo anche un ottimo attacco però l'avversario ci fa fuori subito gli scaricuccioli gli scaricuccioli rega che consiglio nel deck anche il cacciatore però il cacciatore in questo deck non è un giro tutto il posto mam pam 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 po 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 e no non c'è l'uomo 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 che bello signore mettevo questo a posto Questa è quattro, non l'abbiamo visto. Questa è bella. Buonissimo. Secondo il capo si muove. Tutto quel lice. C'è l'uomo. Invece ha 36 mesi. E ci metti, con questa casa o dove è chistato? E allora... C'è un giubbino. Però... C'è un giubbino. Invece, un giubbino. E non è! C'è la prima. Che è l'uomo. Come le visse aerea. Ci metti, con questa e con questa e con questa cavale. E' la prima. Ci sono tutti metti, questa e questa. Che metti, questa e questa. Da? Invece le due voti. Noi, non no! Non, non, non. e non schifo il culo, non è meglio il culo ma tutto cinese, la madre dice, la cinese mannaccio cinese mettiamo i cuccioli qua ma io ho fatto mmm 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 è non no ma perchè quando c'è questo grande cavaliere non c'è? poffi bucchini fattene un po' caldo ma che mi trovo fastidio questa p*****a allora ho già messo il metodo è interessante ma che vuol dire non è interessante ma che vuol dire non è vero non è vero è vero ma non è vero non si può fare impattibile, non si può fare a livello 2, non il vanillo ma si può fare proprio a posto e chi stacca? ehi, a posto, non c'è Cristofra non c'è la marronza ora si protegge a sempre la marronza e mi figu c'è l'faccia e pote l'faccia fa schifo d'ecchia vedete così vediamo canzoni che non mi sono seccata a Bordeaux a Bordeaux come a Bordeaux o Guim o Russo iniziamo iniziamo a Bordeaux non 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 scopo ancora e la mandella che non abbia venire per te anche il gioco e voglio spagnare una storia due grazie come conveni ma come la tenga mandano su un'amica di una maglietta più pesante eccoci ragazzi ah rica toglio la videocamera perchè vi da molto un pochino fastidio e giacchiappano pochi palini eh comunque se ce l'ha due la giù putto a sette paffi no madonna mi comprando fastidio boff però questo qua dovrebbe valere due madonna fastidio mettiamo lo stregone così fa fuori si cavallieri che si bucchi di pipistrella buono buono grazie a me mi ha fatto un favore no 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 si mannaccio qui all'orda all'orda ma quando diciamo che ne usi chiedi bocciato 5 e 4 no non mi ha fatto qui si ha fatto una scuola qui si ha fatto una scuola qui si lo è qui si qui si qui 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 è molto buono è davvero io posso io posso che c'è Alessandra è vero è vero è vero e metiamo lui due 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 non 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 come non 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 dai un attrükare non vai oh io ho provato la buccia non lo so la buccia è un'altra bellissima il decco ma non ci vuoi chiamare a due è per due non ci vuoi chiamare a due non ci vuoi chiamare a due aprimi i baule dell'arena 11 non c'erano dai ragazzi Grazie a tutti